Oggi conosceremo un potentino, un giovane potentino che ha brevettato un oggetto da polso che potrebbe aiutare la vita di molte persone. Lo scorso 6 novembre a Matera si è tenuta Start Cup Basilicata, idee in evoluzione. Giovani e meno giovani hanno presentato progetti molto innovativi. Il vincitore del concorso è qui con noi, si chiama Luigi Battista, è un ingegnere biomedico di potenza. Insieme ad alcuni amici e soci ha creato il PD Watch, il Parkinson's Disease Watch. Praticamente l'orologio per controllare e monitorare gli effetti e le conseguenze e i sintomi del Parkinson, un morbo molto grave come purtroppo ben sappiamo. Buongiorno Battista, innanzitutto complimenti per questa vittoria a Matera. Partiamo subito dal PD Watch, che cos'è, come funziona? Sì, è questo dispositivo che ho qui con me al polso, è un dispositivo indossabile che è configurato come orologio da polso e consente di monitorare in ogni momento della giornata, in qualunque posto si trova il paziente, i principali sintomi motori della malattia di Parkinson, sia il tremore parkinsoniano ma anche la bradicinesia, ossia una lentezza dei movimenti e le discinesie, che sono dei movimenti rapidi involontari che possono essere dovuti a un'assunzione di alcuni farmaci antitremore per diverso tempo. Ricordiamo che è una malattia molto invalidante, come potrebbe aiutare gli operatori sanitari per esempio? Sì, perché questi dati che vengono registrati da questo dispositivo vengono poi utilizzati dal neurologo per individuare per ciascun paziente qual è la migliore terapia possibile, ossia quella che consente di ridurre al minimo i sintomi motori. Ormai abbiamo orologini che contano i passi oppure il battito cardiaco, ma come vi è venuta questa idea di pensare appunto al morbo di Parkinson? Sì, ci sono tanti orologi oggi in commercio anche per il Parkinson e la particolarità di questo dispositivo è che consente di distinguere meglio rispetto ad altri il tremore parkinsoniano da altri movimenti che sono dovuti alle azioni quotidiane fatte dal paziente. L'idea diciamo nasce, io ho seguito la mia passione per l'ambito biomedico, sin da quando volevo studiare ingegneria biomedica speravo di realizzare qualcosa che potesse aiutare le persone in ambito biomedico. E poi ci siamo focalizzati sul Parkinson, è nata in maniera quasi casuale, poi chiaramente l'abbiamo affinata ascoltando sia i neurologi che i pazienti. Progettare e brevettare al sud è facile, è difficile, spesso si dà la colpa alla burocrazia? Io ci sono riuscito, quindi è una cosa che secondo me si riesce a fare. Non è una cosa semplicissima, però ci sono anche delle cose positive. Sicuramente c'è un po' di burocrazia, nel senso che per avere una risposta ufficiale ci vuole un po' di tempo, però ci sono anche delle risposte che vengono date nel giro di dieci mesi massimo e sono anche dell'ufficio europeo dei brevetti, anche se uno deposita in Italia. Sono dei pareri molto importanti che in dieci mesi vengono dati. In poche parole, ora dopo il brevetto, che cosa succede alla vostra idea? Cosa state facendo al momento? Sì, noi speriamo che possa essere effettivamente utilizzata da tutti, perché adesso è solo un'idea, è un prototipo, qualcosa in più di un'idea, diciamo. Stiamo già utilizzando in uno studio clinico questo dispositivo, però speriamo che possa essere messo a disposizione di tutti per poter migliorare la vita dei pazienti. E magari in futuro potrete brevettare anche qualcos'altro. Complimenti, vi vedo molto determinati. Grazie. Alla prossima.